Benvenuti a Blonchenko, la trasmissione dedicata alle criptovalute. Alessio e a tutte le altre applicazioni della blockchain, questa tecnologia innovativa che sta pian piano entrando nelle case di tutti noi. Nella scorsa puntata abbiamo parlato delle criptovalute che sono quotate nell'exchange e in qualche modo danno la possibilità agli utenti di fare trading, di fare compravendite e sono in qualche modo una novità nel mondo del risparmio. Sono delle vere valute, hanno la loro natura e non sono legate a società o a business offline. Vivono di vita propria come vere criptovalute. Però la blockchain, come sappiamo, non è utilizzata solo per queste applicazioni. Esiste un'applicazione molto vicina a quella delle criptovalute che sono i company coin. Cosa sono i company coin? Sono a livello tecnologico la stessa cosa di una criptovaluta, quindi dei veri coin in blockchain, delle vere entità informatiche che possono essere trasferite da un utente all'altro, da una società all'altra, ma sono coin emessi da società, delle società che hanno un business, normalmente un business nella vita reale e che emettono questo coin con funzioni diverse. Alcuni di questi coin sono dei rewarding coin, altri sono dei fidelity coin, altri ancora sono addirittura dei diritti di voto, dei diritti di partecipazione a eventi della società. Ma vediamo velocemente alcuni di questi coin già esistenti. Partiamo con la prima infografica. Socios, come vedete, è un'azienda che dà questa opportunità a terzi. Andando in primo piano potremmo vedere che questa società in particolare fa dei coin per le squadre di calcio. Già il Paris Saint Germain, la Juventus, la Roma, il Real Madrid hanno fatto dei loro coin con cui fidelizzano i loro tifosi. Andiamo avanti e vediamo il caso della Juventus. La Juventus è stata una delle prime. Già l'anno scorso ha fatto il fan coin e vedete infatti il logo dell'ufficial fan coin della Juventus. La Juventus, come scrive in questo sito, lo vediamo dalla terza grafica, praticamente propone il coin fondamentalmente per tre funzioni. Quella di diventare parte delle decisioni della squadra, quindi la squadra chiederà dei consigli ai tifosi stessi e soltanto i tifosi che hanno il coin potranno rispondere, sia per poter partecipare a eventi speciali, per poter magari comprare la maglietta firmata dal campione e quindi diciamo tutta una serie di opportunità che solo i tifosi che posseggono i Juventus fan coin potranno godere. Questa è una formula molto forte che per un'azienda come la Juventus che ha un proprio seguito è eccezionalmente facile diffondere l'utilizzo del coin. Ma vediamo anche aziende che sono nate partendo praticamente da un'idea e quindi non hanno uno storico come ha la Juventus. Al contrario del fan coin in questo caso si parla fondamentalmente di rewarding coin. Vediamo il prossimo case history che è Tattatù. Tattatù è un'azienda nata lo scorso anno, l'inventore è un italiano che in realtà vive in gran parte in California e in Canada, è un produttore cinematografico. Andrea Iervolino è il nome dell'inventore. Questa piattaforma di fatto sta andando a sfidare Netflix. Su Netflix tu devi pagare per poter guardare un film. Su questa piattaforma, su Tattatù, è Tattatù che ti paga quando tu guardi un film. E da dove la guadagna? Naturalmente guadagna dal fatto che sui film in Tattatù... Grazie. 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 Grazie.